bene amici di newsgeek.it stiamo girando questo video dal huawei ideos x5 stiamo agitando il video alla risoluzione di 720p ovvero in hd facciamo un piccolo pan ricordiamo che non è presente lo zoom nei video facciamo un piccolo contro luce vogliamo ma come vedete l'autofocus è continuo ripeto stiamo girando questo video a 720p dal nostro luogo ai ideos x5